La campagna elettorale di Matteo Salvini sulla battigia non ha soluzioni di continuità. Gli italiani in parte sono sulle spiagge e il suo tour è lì che si concentra, da nord a sud della penisola. Fra una granite e un selfie il tormentone elettorale non cambia. E il leader leghista è pronto a ritirare i suoi sette ministri per procedere velocemente verso elezioni anticipate. Al culmine dei sondaggi, che lo darebbero come vincente assoluto, la sua strategia è quasi banale. L'unica soluzione sincera, trasparente, concreta, efficace, democratica è dare la parola agli italiani. Non capisco questo terrore di far votare gli italiani. Siamo in democrazia, dovrebbe essere la cosa più bella del mondo. In realtà le guerre lampo non hanno mai avuto un'efficacia duratura, ma l'accelerazione agostana della politica italiana voluta da Salvini significa scatenare il caos e costringere il premier Conte ad accelerare il voto sulla sfiducia. Il leader del Movimento 5 Stelle ha convocato a Roma tutti i suoi deputati per alzare le barricate contro la intemperanza del carroccio e tentare di tagliare i 345 parlamentari come promesso. Dal campo avverso Matteo Renzi sembra deciso a far nascere nuovi gruppi parlamentari che si chiameranno azione civile, affrontando in proprio le non lontane elezioni. Tuttavia l'ipotesi di un governo tecnico transitorio fatto da Renzi non preoccupa Salvini, che si vedrebbe anche sgravato da dover prendere decisioni impopolari sulla legge di bilancio. La dimensione del blitz estivo di Salvini è tutta concentrata in slogan elettorali che inneggiano ad una sterzata a destra dell'Italia. Di sicuro il Parlamento non si farà liquidare in 448 da Salvini e le possibilità di tirarla per le lunghe nei vari passaggi istituzionali resta un'opzione non così remota. Peraltro in questo caos estivo che riporta Roma all'insieme del gran circo della politica italiana sarà il presidente Sergio Mattarella a dire l'ultima parola a partire dalle inevitabili consultazioni per capire quanto concreta e solida sia la possibilità di evitare al paese ulteriori problemi o condizioni di stress permanente.